Cari amici di Finanza Online, siamo all'interno della trentesima conferenza annuale di IFTA, siamo con Roberto Malnati, partner di Ten Sigma. Roberto, quest'oggi come ti è sembrata come edizione italiana della conferenza annuale di IFTA? Veramente spettacolare, abbiamo fatto una bella figura nei confronti del mondo intero, location fantastica, pieno, interesse, relatori in gamba, una soddisfazione davvero. Ecco, come sempre le tue conferenze non sono mai banali, per gli amici di Finanza Online che non hanno potuto assistere, di cosa hai parlato? Ho parlato di una tecnologia applicata alle reti neurali, si chiama Reverse Engineering, si tratta di prendere quello che è nascosto all'interno della rete neurale, renderlo visibile e trasformarlo in codice. Per chi è avvezzo ai trading system, si tratta di prendere ciò che una rete neurale apprende da sola e trasformarlo in un trading system impiegabile nel quotidiano. Ecco, la tecnologia è un elemento sempre più pervasivo all'interno del mondo del trading, come si sta evolvendo dal tuo punto di vista l'analisi tecnica, anche alla luce dell'importanza dei trading system e degli algoritmi? In realtà sta riscoprendo la semplicità e la robustezza, cioè portare all'estremo la ricerca di una performance che poi in realtà non esiste, che poi è come prendere una Ferrari e farla correre nel deserto, per esempio, o su una strada piena di buche, non ha alcun senso. Quindi c'è una sorta di ritorno a quelle che sono le regole classiche dell'analisi tecnica, le regole storiche, cioè quello che hanno individuato i precursori, ma poi rivisitato con una potenza di calcolo praticamente infinita che permette a questo punto di estrarre proprio l'essenza di quelli che sono dei modelli che si dimostrano ancora validi dopo 50 anni. Grazie dunque a Roberto Malnati, partner di Ten Sigma. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a voi.